Oggi alle 14.30 sul nuovo canale Twitch degli Arcade Boys Fada e Barlo commenteranno per voi la nuovissima puntata di malati di risparmio. Il link al canale Twitch lo trovi in descrizione a questo video. Dopo gli recenti sviluppi di YouTube che per un copyright strike ci ha tolto la possibilità di fare le live per tre mesi abbiamo deciso di rilottare tutte le nostre live sul nostro canale Twitch. Se non hai una vita sociale, se anche tu hai difficoltà a interagire con le persone, fai come fanno Fada e Barlo. Guardati i programmi trash e commentali con loro. Ti aspettiamo questo pomeriggio alle 14.30 sul nuovo canale Twitch. Arrivederci figli della merda e che un felice regresso vi accompagni per tutta la vita.